Don Marco Polverari, il significato di questa festa intitolata alla Santa Croce. Perché il nostro ospedale da sempre porta appunto questo titolo, nel corso del tempo sono cambiate le denominazioni, da ospedale, azienda, azienda Marche Nord, adesso azienda territoriale, però è rimasto sempre accanto quel nome Santa Croce che certamente è sin dall'inizio, da quando l'ospedale prima ancora di essere qui, si trovava appunto al centro città, nella zona della Torre Sant'Elle, le Maestepie Venerini. Questa nostra croce è accompagnata tutto questo cammino di quella che è l'assistenza sanitaria nel tempo fino ai giorni d'oggi. Quindi la festa, il titolo della Santa Croce, il nostro ospedale, la festa della Santa Croce si celebra solennemente il 14 di settembre, è una festa che i nostri fratelli orientali è paragonabile alla Pasqua. L'immagine del crocefisso ci richiama Gesù, è la carne nostra, l'ha assunta, ma l'ha amata, l'ha vissuta, l'ha patita e l'ha redenta. E qui vediamo una bella immagine del crocefisso, un'immagine storica perché è un'opera d'arte veramente molto bella, a cui si accosta invece un'opera più moderna, quella che è stata situata alla fine del corridoio qui del primo piano del ospedale Santa Croce, moderna, fatta poi con gli strumenti chirurgici che usano i dottori proprio per simboleggiare la loro operatività. Il ministero della redenzione noi non predichiamo la croce, predichiamo il Gesù crocifisso che è molto diverso, cioè il modo con cui l'uomo insieme con Cristo può stare sulla croce, non nella disperazione, non nell'angoscia, nel dolore redento. Quest'anno interverrà anche un ospite particolare, il Vescovo? Sì, 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 verrà il nuovo Vescovo, ecco è la prima volta che viene all'ospedale, l'accoglieremo con molta gioia, ecco lui stesso mi ha detto che è contento appunto di venire, non ha paura di venire, di fare il sacrificio e di alzarsi presto perché la messa è alle sei e mezza del mattino, quindi celebriamo sempre a quest'ora ogni giorno dell'anno perché è il momento nel quale se i pazienti possono alzarsi è possibile venire qui in chiesa per partecipare all'eucaristia. Comunque io ringrazio molto perché quest'ora che sembra proibitiva di per sé invece è un'ora che richiama un buon gruppo di persone che appunto prima di recarsi al lavoro ogni mattina in maniera puntuale, ecco si partecipa qui alla messa e ci dà la possibilità di ufficiare questa cappella.